Un buon fine settimana a tutti i nostri amici che ci seguono su YouTube. Sarà sicuramente un bel fine settimana, impegnativo, con tante belle partite e con soprattutto decisioni che verranno assunte domani dopo le gare che verranno giocate. Innanzitutto andiamo a vedere la Serie D dove c'è la partita fra Union Clodense e Bassano. Bassano, terzo in classifica, sta facendo un ottimo campionato, probabilmente superiore alle loro stesse aspettative. Domani però dovrà fare da Sparling Partner la Union Clodense che nel caso dovesse vincere e dovesse approfittare di un eventuale passo falso della Dolomiti, che è la squadra che è seconda in classifica, barcherebbe il traguardo e sarebbe promossa automaticamente in Serie C. Per quanto riguarda l'eccellenza invece ci sono delle gare delicate come quella tra La Rocca e D'Ambrosiana. La Rocca deve ancora essere certo di andare ai play-off, ma nel caso in cui dovesse vincere domani probabilmente si giudicherebbe la certezza matematica. Poi ci sono delle partite che riguardano la zona retrocessione dove sono coinvolti alcune squadre vicentine come Oro Cassola al Bignasego e come Porto Viro Camisano, da cui speriamo arrivino buone notizie per i colori vicentini. In promozione si sa che la situazione è ancora molto ingargugliata al vertice. Tutte e cinque le squadre che in questo momento potrebbero vincere il campionato sono impegnate in gare abbastanza complicate, come per esempio la Marosticense che va a Sarcedo contro una squadra che ha disperatamente bisogno di punti, come il Chiampo che va a Fontaniva, altra squadra che deve togliersi l'impiccio dalla bassa classifica, o come il Montebello che gioca con il Salvatronda che non è nemmeno questa una squadra sicura. Partite più sulla carta abbordabili le hanno Mano e Caldonio che giocano in casa con Valbrenta e Galliera che sono due squadre tranquille. In prima categoria invece domani si potrebbe assistere ad una gara decisiva per il Tiene. Il Tiene gioca contro la seconda in classifica, l'Altoastico Cogollo a 12 punti di vantaggio, dovesse rimanere questo vantaggio, mancano quattro giornate alla fine, sarebbe quasi certo della promozione, ma nel caso in cui dovesse vincere il Tiene allora i punti diventerebbero di più e il Tiene si aggiudicherebbe con quattro giornate di anticipo la promozione in promozione. In seconda categoria c'è un'altra squadra che può puntare domani al successo pieno, è il Montecchio San Pietro che però prima di tutto deve battere il Brogiano e poi in secondo luogo deve aspettare notizie dall'Union Olmo Creazzo perché solo nel caso in cui la seconda classifica che è appunto l'Olmo dovesse perdere allora il Montecchio avrebbe la certezza matematica della promozione. Anche in terza categoria potrebbero arrivare dei verdetti positivi e riguardano due squadre vicentine che ci fa molto piacere. Nel girone vicentino è vicinissimo alla promozione l'Alto Academy, una bella società che ha esordito quest'anno nel campionato di terza categoria dominandolo letteralmente, ha un buon vantaggio e domani potrebbe acquisire la certezza matematica della promozione. E il Cresole nel girone bassanese, la squadra è stata inserita quest'anno nel girone bassanese, sta facendo un grande campionato, ha dieci punti di vantaggio sulla seconda e anche per loro domani potrebbe scappare la soddisfazione e potrebbero essere pronte le bottiglie di spumante. Speriamo che tutto vada per il meglio e ci sentiamo domani con gli aggiornamenti dai campi. Buona serata a tutti.